Esprimiamo le più profonde condoglianze alla famiglia e al movimento politico dei 5 Stelle e la vicinanza totale. Sicuramente perdono una parte importante della loro realtà, è quella parte che anche aveva bilanciato forse i gruppi parlamentari di Camera e Senato rispetto a posizioni più vicine a un mondo, un'area politica di sinistra. Casa Legge Grillo più volte avevano riportato la barra dritta. Speriamo che ci sia qualcuno che continui a farlo, ma ovviamente adesso è il momento della vicinanza per una perdita molto importante, per un'alta politica estremamente importante del Paese.